Ciao a tutti, bentornati su Vivi con Letizia. Oggi scopriamo 7 modi e un trucchetto per utilizzare i contenitori vuoti delle candeline. Lasciatemi i vostri commenti sotto al video, io vi aspetto anche su Vivi con Letizia naturalmente, Vivi con Letizia viaggi e Vivi con Letizia il gruppo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!